Grazie a tutti. Come andate in barca? Vi siete divertiti? Ciao ragazzi. Ah, fritto misto anche voi. Da panico, vero? Sparisci, checca. Almeno io non mi rado il petto. Come, scusa? Luke, lascia stare. Ho detto che hai una bellissima maglietta. Era un complimento. Ma senti, lui ti spacco la faccia, Cori. Piantala. Chi si rivede? Il nostro ridicolo amico. Soprattutto con Luca Leitmai. Dai, smettila. Che ti prende? Hai fondato un partito in difesa degli sfigati d'America. Sai cosa mi piace dei figli di papà? Niente. Bella prova. Corri. Non lo taglio a passare. C'è uno che si ammazza con le mie mani. Apri, guarda che miseria, apri. L'altra uscita. Svelti. Stavolta avete chiuso. Non so, vi ritroviamo. Hai chiuso, corre. No asistene. checkout. No asistene. No asistene. No asistene. Ch Minorâ smash sa luci da mani.